Michele Di Bari è il nuovo prefetto di Venezia, subentra Vittorio Zappalorto. Oggi si è presentato ai giornalisti la sicurezza, la sua priorità. Luca Colombo. Credo che il prefetto abbia, soprattutto a Venezia, un ruolo di coordinamento importante per salvaguardare la sicurezza dei luoghi, per salvaguardare ciò che questa grandissima, bellissima, laboriosa comunità esprime. A Venezia si è insediato il nuovo prefetto, Michele Di Bari, pugliese da Mattinata a Gargano, provincia di Foggia, punta sulla prevenzione, a breve convocherà il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Prefetto a Vibo, Modena, Reggio Calabria, di vari comuni dello Speroni d'Italia, sciolte le amministrazioni condizionate dalla criminalità organizzata foggiana, è stato commissario straordinario, così sull'Andrangheta in Veneto orientale. C'è un monitoraggio continuo che deve essere sempre più incisivo ai fini di evitare che si giunca nella fase repressiva. Il Veneto l'ha conosciuto da segretario comunale nel Vicentino, a Grancona, Zermeghedo, Montebello. Un'esperienza meravigliosa. Guardi, con un sindaco in particolare io intrattengo rapporti ancora oggi dopo 32 anni. prioritaria, dice Di Bari, la tutela della dignità della persona. Immigrazione, ipotesi governativa di un decreto flussi, ma anche di nuovi centri di rimpatrio, uno per regione con allungamento dei tempi di permanenza a sei mesi. Innanzitutto leggiamo le norme. Dopodiché è mia intenzione anche verificare nell'intera regione con i colleghi ciò che accade. Affroderemo il tema secondo ciò che mi verrà prospettato. Grazie.